Oh, in questo periodo abbiamo tralasciato un po' di notizie riguardanti il mondo della fotografia, bene o male quello che ci gira intorno, perché magari non adatta un intero video, ma che comunque secondo me non dovrebbero essere tralasciate. Quindi oggi riassumiamo un po' di notizie appunto a riguardo in questo video. Prima di continuare, come se soltanto, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate un sacco di cose interessanti. Intanto i canali Telegram, le offerte giornaliere su Amazon, ci vuole pazienza, quindi non pensate di trovare tutti i giorni, in tutti i momenti, delle offertone mega galattiche. No, iscrivetevi e aspettate con calma, guardate giornalmente, perché ci sono veramente delle offerte molto interessanti. Poi ci sono altri consigli per gli acquisti, i miei link Instagram, insomma un sacco di cose, perché la descrizione non è messa lì a caso, dateci un occhio. In questi giorni ci sono state delle presentazioni di lenti piuttosto interessanti. A cominciare dal Sony 24-50mm f2.8, una lente, tutto fare uno zoom, ridotto in tutto. Cosa vuol dire? È una serie G, quindi di particolare pregio. Da parte di Sony è un f2.8, ma è un 50, non è un 70, quindi come anche dimensioni, come peso è ridotto, come peso, naturalmente come esclusione focale è ridotta e anche come costo, perché parliamo di una lente che viaggia intorno ai 1000 dollari circa. È una lente estremamente compatta che è stata fatta vedere, insomma, su fotocamere, tipo la 7cd seconda generazione, fotocamere, che comunque hanno una dimensione abbastanza ridotta, quindi già le nuove 24-70 hanno dimensioni un pochino più, i nuovi obiettivi 24-70 hanno dimensioni un pochino più ridotte rispetto alle precedenti versioni, questo ancora di meno. Un interessante passo da parte di Sony per andare a prendere un certo tipo di clientela. Evidentemente chi non vuole spendere così tanto per il nuovo 24-70. E parliamo comunque di una lente f2.8, quindi molto, molto luminosa. L'Auva, non so mai come si pronuncia, l'Auva comunque presenta un 10 mm f2.8 per full frame, quindi un grandangolo veramente estremo, estremissimo, f2.8 appunto, ma soprattutto autofocus, la prima lente, l'Auva, completamente automatizzata. Hanno spinto abbastanza questa lente, tanto più che addirittura Albert Dross, uno dei miei fotografi landscape preferiti, se non i miei preferiti in assoluto, ha presentato questa lente, pubblicando ovviamente le sue meravigliose fotografie, lente che viene venduta intorno agli 800 doll, 799, quindi una cosa veramente notevole, 10 mm su full frame. Ritorniamo al discorso precedentemente fatto in altri video, dove evidentemente in certe fasce di prezzo, con certe focali molto particolari, ecco che le lenti orientali, oggi come oggi, effettivamente dominano. La domanda è, immaginatevi Sony produrre un 10 mm f2.8, autofocus naturalmente, quanto potrebbe costare? Milioni di miliardi di euro, di dollari. Ma sempre parlando di grandangoli, anzi fisheye, fisheye tra l'altro, come vengono definiti, diagonali, cioè un fisheye che non ti fa vedere la parte nera, che non riesce a inquadrare il sensore, perché appunto la lente è troppo piccola, parliamo del 15 mm f1.4 di casa Sigma, ha presentato circa 2.000 dollari, insieme al 500 mm f5.6 ha presentato circa 3.000 dollari per Sony full frame e L-mount, quindi Leica, Panasonic, eccetera. Interessante perché è uno dei pochi fisheye, alla fine, che si possono trovare, diagonali, che si possono trovare per Sony al momento sul mercato. Ma sempre emanendo in ambito Sigma, il CEO, Kazuo Yamaki, non so se poi la mia pronuncia è il giapponese, è un po' così, ha espresso una cosa molto interessante, cioè un suo interesse nei confronti del sistema GFX di Fujifilm. Cosa vuol dire che arriveranno delle lenti per il sistema GFX di Fujifilm? Allora, la questione è molto semplice, letta anche tra le righe, è un mercato sicuramente in espansione quello del medio formato e come ho già detto anche in altri video, è probabile che i grossi produttori che non sono Fujifilm abbiano già, che non è Fujifilm, hanno già in cantiere dei prototipi. La questione è che al momento la domanda sì è alta per Fujifilm, ma non è così elevata per un produttore di terzi da cominciare a produrre effettivamente delle lenti. Quindi Sigma sta monitorando quello che è l'andamento della richiesta effettivamente di questo tipo di lenti, però è in dubbio che vorrebbe fare delle lenti. Una cosa poi che è stata sottolineata è il fatto che comunque Sigma in questo periodo sta puntando su lenti senza compromessi, vuol dire che comunque la qualità costruttiva e ottica deve essere veramente di altissimo livello. Già parliamo di altissimo livello su sistemi APS-C e full frame, figuriamoci se si dovesse trovare a proporre delle lenti per sistemi GFX, dovrebbero essere veramente allo stato dell'arte. Secondo me non siamo lontanissimi da nuove lenti, anzi da lenti Sigma per sistemi GFX, sotto fatemelo sapere nei commenti. E parlando di terze parti, anche Canon, un manager di Canon, ha rilasciato alcune dichiarazioni vaghe, vaghissime, sull'apertura a terze parti da parte di Canon. Ogni tanto qualcuno sotto nei commenti mi scrive ma ci sono degli aggiornamenti, c'è qualche novità, perché le lenti Canon effettivamente costano l'impossibile. È vero, è vero, mantengono assolutamente il prezzo, se devi rivendere comunque si porta la casa dei bei soldi, quindi non si va a perdere tanto valore, però sa di fatto che io non l'acquisto per rivendere, io l'acquisto per utilizzarla, quindi se devo spendere 2.000 o 3.000 euro per una lente, capite che ci si pensa un attimino di più. In alcuni frangenti le lenti Canon costano addirittura di più dei sistemi delle lenti GFX. A che punto siamo? Risposta vaghissima. Stiamo andando avanti con le contrattazioni, siamo a buon punto, sicuramente vedremo dei progressi a breve. sta di fatto che al momento le lenti di terze parti di Canon non se ne vedono, quindi se avete Canon e state sperando in lenti di terze parti, mi sa che bisogna aspettare ancora un pochino. Parliamo di un argomento scottante, sì, perché il video ha suscitato parecchie polemiche. Olympus, anzi OM System OM1 non Mark II, cioè la versione precedente, riceverà un aggiornamento con delle implementazioni sull'autofocus. Ora, OM System è stata molto chiara. Normalmente in questi casi, quando proponi qualcosa di nuovo, dici quello che arriva, non quello che non arriva, cioè io ti dico quello che sarò in grado di darti, non quello che non avrai. Invece l'OM System agisce in questa maniera qui, quindi dice, ok, arriverà un aggiornamento firmware per la OM1 Mark I, possiamo chiamare la prima generazione, dove ci sarà un'implementazione dell'autofocus. Ma attenzione, non avrai quello che c'è sulla OM1 Mark II, quindi l'intelligenza artificiale, scordatela, quindi il rilevamento dei soggetti, eccetera. I filtri ND Live, scordateli, quelli non ci sono. E anche le performance dell'autofocus, sì, saranno implementate, ma non saranno a livelli della Mark II, ok? Un po' come dire, beh, io il contentino te lo do, con un aggiornamento firmware, con delle novità, però, se vuoi fare il passo, c'è la Mark II, Sapete già come la penso. Chiudiamo una notizia, mi ha veramente abbastanza scioccato, perché, allora, sappiamo che la Fujifilm X100, l'X100 generale, no? Il modello X100 sta subendo in questo periodo una, boh, c'è una mania, c'è un'epidemia di esigenza di acquistare una X100, tanto più che la X100 di prima generazione viene venduta anche a 300-400 euro. Io ricordo di averla venduta, forse quando ho preso la F, a 200-300 euro, qualcosa di c'è, l'ho venuta veramente a poco adesso, che è ancora più vecchia, ancora si continua a vendere. Qualcuno dice, sì, vabbè, ma è la moda dei tiktoker che ce l'hanno al collo che fa molto stile, è quasi diventata un accessorio. Sì, però capite che se voi avete un'azienda e avete un prodotto e questo prodotto vende non tanto con lo scopo di essere utilizzato per i motivi per cui è stato progettato, ma soltanto per decorazione, qualcosa di nobile, ci mancherebbe, non che vengano utilizzate per scopi che in qualche modo possono danneggiare la tua azienda, beh, capite che non è che ti importa più di tanto, l'importante è che si venda. Ed ecco che è incredibile, ma la X100 di sesta generazione a quanto pare, purtroppo non vi so citare nelle fonti, ma è probabile che si vada a vedere i preordini sui grossi negozi online che ci sono negli Stati Uniti, a quanto pare i preordini della X100 di sesta generazione sono 50, ripeto, 50 volte i preordini della Sony A7C di seconda generazione e della Sony A7CR messi insieme, cioè i preordini di queste due fotocamere non bastano a fare un cinquantesimo dei preordini della 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 X100 di sesta generazione e sono 35 volte invece i preordini dell'X100 sono 35 volte quelli della Nikon ZF altra fotocamera con dei richiami molto molto vintage sul la questione vintage penso che farò un video a parte cioè un video proprio completamente diverso su cui discuterò su questa cosa e su come sta andando il trend appunto di Fujifilm che ha risvegliato anche in altre aziende questa voglia di di vintage potremmo anche chiamarlo di vecchio però di vintage interessantissima questa cosa poi ci saranno delle dichiarazioni anche di Fujifilm quindi anche la produzione è aumentata però sono sincero se questi preordini corrispondono alla realtà ahimè puoi aver aumentato quanto vuoi ma mi sa che a breve ci sarà di nuovo una carenza di X100 staremo a vedere fatemi sapere sotto in descrizione cosa vi ha colpito di più cosa vi interessa magari di più delle notizie che vi ho dato in questo video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale attiva la campanella mettete il video condividerlo date un'occhiata alla descrizione o date un'occhiata davvero alla descrizione perché su canali telegram ci sono veramente delle grandissime offerte che potete trovare dove si risparmiano e si trovano delle cose veramente interessantissime e date un'occhiata sotto alla descrizione che comprende offerte per gli acquisti eccetera e vi ricordo che in questo modo mi supportate anche col canale e vi ringrazio e vi voglio veramente un mondo di bene noi ci vediamo nel prossimo video